In una lettera scritta in data 6 dicembre del 1917 ad una sua figlia spirituale di nome Antonietta Vona, Padre Pio scrive quanto segue. Tieni questo ben presente sempre dinanzi alla tua mente, che cioè i figli di Israele stettero per lo spazio di 40 anni nei deserti, prima di arrivare nella terra promessa, sebbene per questo viaggio sarebbero stati più che sufficienti sole 6 settimane. Pure non fu lecito investigare perché Dio li conduceva per vie tortuose ed aspre, e tutti quelli che ne mossero lamento morirono prima di arrivarvi. Lo stesso Mosè, quale grande amico di Dio, morì alle frontiere della terra promessa, la quale li vide solo da lontano, senza poterne godere. Non badare molto alla strada che batti, agli occhi sempre fissi, abili occhi sempre fissi su colui che ti guida, sulla patria celeste alla quale li ti conduce, di che devi curarti se sarà per deserti o per i campi che tu ci giungerai, purché Dio sia sempre con te e che arrivi al possedimento della beata eternità. Credimi mia buona figliuola, desidera pure ciò che mi hai manifestato, ma il tutto sia fatto con calma e sii paziente in attendere le misericordie del Signore. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.